Sono insieme ad alcune, a gran parte della famiglia dell'Orizzonte Catania che sta affrontando, affronterà anzi questo weekend la seconda gara di playoff a Messina contro il Messina. Che avversario è? Un avversario sicuramente difficile, la prima è andata, ci hanno battuto, ma sicuramente andiamo lì con la voglia e con la cattiveria di rifarci assolutissimamente non mollando niente, perché non vogliamo regalare assolutamente niente. Sta andando bene quindi continuiamo. Sarà difficile lontano dal vostro pubblico che è abbastanza caloroso? Il nostro pubblico quest'anno è stato l'uomo in più, sono stati sempre numerosi a venirci a guardare. In bocca al lupo! Crepi, grazie a tutti!